L'arte come terapia nei reparti oncologici. È stato presentato a Palazzo Ducale il progetto del coreografo toscano Marco Beccherini che coinvolge anche le associazioni di volontariato della provincia di Lucca. L'arte e la creatività come terapia per i pazienti oncologici. Sbarca in provincia di Lucca il progetto di creazione artistica destinato agli ospedali del territorio e curato dal danzatore e coreografo toscano Marco Beccherini che con la sua equip da dieci anni è impegnato nei reparti oncologici di diversi ospedali del sud della Francia e nella casa di cure palliative a Marsiglia. Dopo le esperienze realizzate a Firenze e Volterra la squadra di Beccherini ha scelto la città di Lucca dove sarà realizzato sul tema anche uno cortometraggio. È un progetto che è nato nei centri oncologici di Marsiglia, ARL, e ci piacerebbe che si riproducesse anche qui in Italia. È un progetto che esiste in otto ospedali oggi in Francia da 12 anni, quindi è un progetto che suscita interesse e entusiasmo. Quali sono le caratteristiche? In cosa consiste? È soprattutto danza, quindi movimento e si rivolge nei servizi oncologici di questi ospedali. Si ballerà e si sarà felici. La proposta di Beccherini è stata subito accolta con entusiasmo dalla provincia che ha coinvolto in questa avventura anche le associazioni locali impegnate sia in ambito culturale che in quello delle attività di supporto e cura dei pazienti. L'obiettivo è quello di divulgare, di far conoscere questa esperienza significativa che è nata in Francia e che coniuga appunto la salute con l'arte, con il teatro, la danza in questo caso, la salute per malati oncologici, quindi anche in situazioni particolari di vita, ma che appunto vogliamo che siano comunque strade che ci portano verso la felicità e quindi l'obiettivo che viene portato avanti da questo progetto, che sarà a Lucca nelle prossime settimane, è quello anche di farlo conoscere, di poter diventare una buona pratica anche per ovviamente il nostro territorio.